Belte ragazzi e benvenuti sul canale ragazzi benvenuti al secondo martedì del canale della sera domani 4 ragazzi ieri ragazzi vi ho detto l'oledì andata ragazzi ed oggi vi andrò a dire di ritorno c'è dalla dalla giacca nuovente alla giacca nuovente 38 quindi ragazzi iniziamo allora ragazzi benvenuti al giornato atlanta france lunea fiorentina unese genoa torino io stasolo lazio lecce milan loma bellasita napoli sanitaria derby campano cagliari bologna e la serona empoli e monza inter che quale a quella di andato c'è la prima decidenza e quali l'entità il monza quasi ventunesca giornata bologna fiorentina empoli monza inter atlanta france non è genova c'è france nel calciote sarà salita nella genova roma e la serona lecce juve torino lazio udinissimina e sassuolo napoli ventiduesa giornata atlanta udinissi cali torino finiti inter genoma lazio genoma lazio genoma lazio genoma lecce lazio napoli monza sassuolo milan bologna juve empoli e l'astrona france lune e sanitaria roma pranzi 23 sanitaria roma atlanta lazio bologna sassuolo empoli genoma france lune milano inter inter juventus e david d'italia roma cali lecce france lune napoli e la serona udinissi monza torino sanitaria bologna lecce cali lecce lazio fiorentina france lune juve udinissi milan napoli sassuolo torino genova atlanta sanitaria empoli e monza verona e roma inter 25 soggiornata attanta sono empoli e france lune roma france lune roma e la serona juventus inter salenitana lazio bologna udinissi cali napoli genova torino lecce e monza milano vendicesima giornata ragazzi bologna e la serona cagliari napoli france l'azio genoma udinissi roma torino milano tanta sassuolo empoli juve fresione lecce inter a lecce forse c'è il centro sanitaria monza poi di settesima giornata atlanta bologna fresno lecce e la serona sassuolo lazio milano monza in roma empoli cali torino fiorentina juve inter genoma napoli juve e udinissi a salitano ventottesima giornata di serie a bologna inter cagliari salentano fiorentina roma genoma bonza lecce udinissi napoli torino giuvi atlanta milano sassuolo fiorenti france lune lecce e la serona ventinovesima giornata atlanta fiorentina france lune lecce elas verona milano inter napoli roma sassuolo empoli bologna monza cagliari juventus genoma sanitaria e udinissi a torino giornata numero 30 bologna salentano cagliari e la serona fiorentina milano lecce roma sassuolo udinissi napoli atlanta inter empoli genuo francesione le le due nevamose lazio juventus torino monza trentunesima giornata empoli torino monza napoli salentano sassuolo cagliari atlanta francesione bologna juve fiorentina verona e la serona e la serona genoma udinissi inter roma lazio e milano lecce 32 siamo giornata atlanta e la serona bologna monza fiorentina genova l'azio sanitaria internet inter cagliari le tempoli napoli francesione torino juventus sassuolo milano udinissi roma cagliari ca trentesima giornata per natria e come come gesù cagliari cagliari juventus empoli napoli genuo alassio e la serona udinissi monza atlanta roma bologna sassuolo italiana fiorentina torino francesione e milano inter inter il debito di milano di ritorno di ritorno per la serra sulla lecce per la serra 34 giornata atlanta empoli roma bologna udinissi fiorentina sassuolo francesione sassuolo inter inter torino juve milano bella partita lecce lecce per monza napoli broma anche una bella partita genuo cagliari pazzo e la serona trentacinquesima giornata di serra cagliari lecce empoli francesione sassuolo italiana bologna e la serona fiorentina milano genuo sassuolo inter roma juve sarebbe una bella partita anche queste ragazzi monza lazio udinissi napoli al trentasinesima giornata ragazzi atlanta ruoha frentina alla monza francesine inter genuo sassuolo e la serona torino juve stalinitana lecce udinissi napoli Bologna, Milan, Cagliari, Lazio, Empoli. Ora è la 37 giornata di Lazio, la penultima giornata di Lazio. Bologna, Juventus, Fiorentina, Napoli, Inter, Lazio, Lecce, Atalanta, Sassolo, Cagliari, Udris, Empoli, Monza, Frosinone, Roma, Genua, Salenitana e Las Verona, Torino, Milan. Ragazzi, ultima giornata di Lazio. Atalanta, Torino, Cagliari, Fiorentina, Empoli, Roma, Frosinone, Udris, e Las Verona, Inter, che è come il giro di andata. Ragazzi, Juve, Monza, Lazio, Sassuolo, Milan, Salenitana, Genua, Bologna e Napoli, Lecce. Ragazzi, il video termina qui. Ragazzi, questo è il credito della serie A. Ragazzi, ragazzi, ci vediamo in un... Ci vediamo nel prossimo episodio con il vlog del mio pleno, ragazzi. Che lo registrerò quando voi state a questo video. Io con i 20 anni lo tolgo e farò il vlog di tutta la mia giornata. Ragazzi, bella. Ciao ragazzi! Ragazzi, ragazzi. Grazie a tutti